La montagna perché con grande disponibilità e senso di responsabilità attraverso le perizie dell'antincendio si procederà anche allo sforzo dell'erba lungo le strade provinciali, quindi una doppia azione di prevenzione per gli incendi e soprattutto anche di messa in sicurezza perché le carreggiate stradali con la pulizia e lo sforzo dell'erba fuori dalle carreggiate si mettono anche in sicurezza rispetto a un senso a volte di difficoltà e la provincia ha ormai di procedere alla manutenzione della propria via.